La bomba esplode a fine mattinata con la voce che Moody's sarebbe pronta a tagliare il retino alla Francia solo tre giorni prima delle elezioni presidenziali che vedono già Salcosì in forte difficoltà. Il Ministero dell'Economia francese si affanna a smentire il declassamento, ma il danno ormai è fatto. Le chiusure delle borse europee fatta eccezione per Londra, rimasta invariata, sono tutte negative. Male Milano sotto di oltre due punti, peggio ancora Parigi e Madrid. Nonostante il successo delle loro aste dei titoli di Stato, Madrid, che preoccupava di più, ha collocato sul mercato oltre due miliardi e mezzo di titoli a due e dieci anni, con rendimenti in leggero rialzo rispetto all'asta precedente, sotto comunque il 6%. Contemporaneamente domanda quasi tre volte superiore all'offerta per le 8 miliardi di famosi haute francesi, con scadenze diverse, tutti con rendimenti vicini ai due punti percentuali. In questo quadro nervoso, lo spread bonus Bunda a dieci anni è stato ancora pesante, 423 punti, con rendimento del 5,92%. Inevitabile per cui qualche ripercussione anche sul nostro differenziale, che infatti è salito a 391 punti base per un tasso di interesse al 5,61%. In questo giovedì, a dir poco nero per Piazza Affari, un barlume arriva da Bruxelles. Il rapporto deficit prodotto interno lordo previsto dall'Italia per il 2013, quello a 0,5% annunciato ieri da Monti, è in linea con le previsioni della Commissione Europea, fa sapere un portavoce. Ora, aggiunge, i commissari aspettano però di ricevere il programma di stabilità per il prossimo triennio. La sfida è in corso ed è anche con la matematica, tanto che a chi le chiede perché il Fondo Monetario sia stato così severo sulle stime per l'Italia, negando la possibilità di pareggio di bilancio prima del 2014, la direttrice Lagarde risponde vogliamo solo che torni l'equilibrio e che il Paese cammini con le proprie gambe.